L'archivio dell'ispettore di Falco di Fabio Fabiano Legge Alberto Caneva Sara Monica e Mani Vierdi Approfittando dello shock generale, l'ispettore capo individuò quelli che tra i due gruppi avversi erano i più facinorosi e con la mano gli fece segno di avvicinarsi. I due lo raggiunsero. Uno era sulla sessantina, razza bianca, calvo, con lunghe basette, alto, imponente e insuffo. Indossava camicia e bermuda. L'altro, sulla trentina, di chiara origine magrebina, fisico asciutto, occhi e capelli neri, altezza media, vestito con jeans e maglietta nera. Appena giunti al suo cospetto, il poliziotto si presentò. Sono l'ispettore capo di Falco e mi sembra che la situazione stia degenerando. Ora con calma mi riferite chi siete e cosa sta accadendo. Per dare il via a chi doveva parlare, l'ispettore guardò l'omone con la pancia e questi iniziò. Mi chiamo Carmelo Vellà. Sono italiano, ma è migrato in Belgio dall'età di 13 anni. Ieri sera sono tornato con mia moglie, con i miei tre figli, con le mie nuore e nipoti in vacanza. Questa mattina volevo far vedere alla mia famiglia la casa di mio nonno, anche perché io sono suo unico erede, la casa adesso è mia. Quando siamo arrivati ho visto che l'abitazione era occupata di loro. Io non ho mai affittato la casa che era stata di mio nonno, poi di mio padre, e che adesso, ripeto, è mia dopo la loro morte, perché l'ho arredditata. L'altro non si presentò neanche e ribatté. Io pagare affitto per casa. Tu non sei padrone della casa. La casa è di signor Gallo. Io ho pure contratto che ho presentato a polizia per permesso di soggiorno. Tu bugiardo. Il sessantenne guardò malamente il magrebino e una vampata gli colorò la faccia di rosso. Romano, che intanto si era avvicinato al terzetto, intervenne. Rilassatevi, ora ci siamo noi a chiarire le cose. Di Falco chiese al trentenne. Tu, come ti chiami? Mohamed Salat Basel. Io sono tunesino. Ho permesso di soggiorno. Lavoro al ristorante L'Apparanza. Poi, rivolgendosi a un ragazzo sedicenne, gli urlò qualcosa in arabo. Il ragazzo, senza farselo dire due volte, corse verso l'ingresso di un'abitazione, che si trovava al piano terra di un edificio di vecchia costruzione, a due elevazioni, ed entrò. Uscì pochi minuti dopo, con delle carte inserite all'interno di una custodia di plastica trasparente. Sempre di corsa, il ragazzo, come un cadetto, portò i documenti al padre, il quale li controllò e poi li porse a Di Falco. Il poliziotto prese l'incartamento, estrasse i fogli dalla custodia e iniziò a dare un'occhiata. Quei documenti comprendevano i fogli di soggiorno di sei cittadini tunesini, quasi tutti con lo stesso cognome, e poi un contratto di affitto. Intanto, tutti i partecipanti alla lite si concentrarono di fronte al gruppo gestito dall'ispettore Di Falco e fecero da spettatori alla composizione del dissidio. Tutti guardavano l'ispettore capo che leggeva le carte ed aspettavano ansiosi un verdetto. Il poliziotto, dopo aver dato una lettura veloce ai documenti, li porse a Romano con l'intento di farli visionare anche a lui, e poi decretò «Signor Vella, lei e la sua famiglia, dove siete alloggiati?» L'umone rispose immediatamente «Hotel Madalusa!» Lei è stato immigrato e conosce bene le difficoltà di chi, per guadagnarsi un pezzo di pane, è costretto a lasciare la propria terra. «Sì, certo, io ho sofferto anche la fame quando ero piccolo!» «Perfetto, allora comprende bene le difficoltà del nostro amico tunisino e della sua famiglia!» «Sì, ma quella è casa mia!» Di Falco lo interruppe bruscamente. «Bene, se capisce le difficoltà e stasera va a dormire con la sua famiglia in uno dei migliori hotel della città, ammesso e non concesso che la casa sia di sua proprietà, può anche permettersi di ospitare per qualche notte i nostri amici immigrati tunisini, vero? «Sì, d'accordo, anche io sono stato immigrato!» Poi si rivolse a Mohamed Salah Basel. «Se tu, tornando in Tunisia, trovi qualcuno che occupasse la tua casa, ti girerebbero i coglioni!» Il tunisino prese tempo, poi ammise. «Certo che io mi incazzo!» «Perfetto! Allora è normale che il nostro amico Carmelo Vella e i suoi figli, vedendo la loro casa occupata, si siano incazzati. Essendo che la situazione mi sembra un po' incasinata, lasciamo le cose come stanno. Ognuno questa sera va a dormire dove ha trascorso l'ultima notte. «Noi abbiamo i vostri recapiti, facciamo gli accertamenti del caso e tra qualche giorno vi richiamiamo. Ora stringetevi la mano da bravi immigrati, ma soprattutto non fateci tornare, perché se vi trovassimo a gridare o a litigare o, peggio ancora, a rissare, questa notte vi facciamo dormire nelle celle di sicurezza del commissariato che vi posso assicurare sono piene di umidità e ricche di scarafaggi». I due si guardarono negli occhi e sotto gli sguardi minacciosi di ombra, che aveva iniziato a scricchiolarsi le dita nervosamente, si strinsero la mano. Vella, dopo la stretta di mano, si premurò a presentare i suoi tre figli con le relative nuore. Il primo fu Joseph, immigrato in Svizzera e sposato con Claudette, una bella biondina trentenne. Il secondo Gianni, anche lui immigrato ma in Inghilterra. aveva sposato Samantha, una bella mora ventenne. Il terzo, Vincent, residente in Spagna, aveva sposato Sofia, anche lei una bella mora trentenne. Gli animi si distesero e i due gruppi, che dapprima si contendevano la casa, finirono per conoscersi tra loro. A questi ultimi si aggiunsero, oltre ai poliziotti con tarallo in testa, anche alcuni abitanti del cortile. Carmelo Vella fu anche riconosciuto dai vicini come il nipote dell'omonimo nonno e da quel momento tutti cominciarono a fargli festa. Da un portone fece capolino una donna vestita di nero, con i capelli bianchi, che chiese ad alta voce Quella fu una domanda del tutto pleonastica perché, qualche minuto dopo, la signora scese con delle tazzine e una caffettiera gigante e pasticcini di pasta reale. Il tunisino non fece desiderare la sua ospitalità e, dopo una serie di ordini ben scanditi in arabo, una donna, che doveva essere la moglie, entrò all'interno dell'abitazione e uscì con dei pezzi di cubaita per la delizia di Vella, dei suoi familiari e dei poliziotti. Nonostante gli agenti fossero andati via, i protagonisti di quella vicenda rimasero seduti a parlare e conversare tra loro per ore, Manco fossero amici da una vita. Come sottolineò Ombra, la lite finì A pasticcini e caffè Se pensate che i super poliziotti sono quelli che sequestrano ingenti quantità di sostanza stupefacente o catturano pericolosi latitanti di mafia o debellano intere cosche mafiose, probabilmente avete una visione illimitata del mestiere del poliziotto. Di Falco, che di successi investigativi, assieme alla sua squadra, ne aveva raggiunti tanti, questa volta si dimostrò un poliziotto davvero speciale. Con il suo intervento aveva evitato una rissa che avrebbe provocato sicuramente feriti e non solo tra i componenti dei due gruppi rivali, ma che avrebbe potuto coinvolgere i poliziotti. In questa maniera si evitarono degli arresti e le conseguenti spese giudiziarie e di reclusione, ma il top fu riuscire a superare la sfiga che portava Tarallo. trasformando una situazione di tensione al limite della rissa a una che era simile a una festa di Rione.